Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Con la fine dell'estate, con il convegno diocesano del 6-7 settembre, inizia un nuovo anno pastorale nell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Come ogni anno, afferma Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, l'essenziale rotazione dei sacerdoti, i raggiunti limiti di età di alcuni di essi, l'ordinazione di preti novelli, ci porta a ripensare le realtà parrocchiali in un progetto pastorale più ampio, che ci proietta verso il futuro. Sarà Don Ezio di Pietro Paolo il primo a raggiungere la nuova parrocchia. Il parroco di Cellino Attanasio, sponda a Teramana della diocesi di Pescara Penne, arriverà nella chiesa di San Paolo in Pescara domenica 1 settembre. Sarà lo stesso arcivescovo alle 18.30 a presentare il sacerdote alla comunità di Via Montanara, finora guidata da Don Giorgio Wegenin. Sono però le aree pastorali a caratterizzare l'avvicendamento di alcuni parroci. Non si tratta di una novità, continua Valentinetti, perché siamo arrivati all'idea delle aree dopo un periodo di formazione dei sacerdoti e dei fedeli nelle varie foranie. Le aree pastorali non sono semplicemente territori, ma luoghi di incontro di persone che sempre di più scendo dai vincoli territoriali delle proprie chiese e abbracciando le proposte della propria zona potranno trovare possibilità di confronto, catechesi e formazione. Sono altresì spazi di collaborazione tra sacerdoti e religiosi, che nel lavoro concordato e supportandosi a vicenda potranno offrire un servizio migliore ai fedeli e potranno ritrovarsi più facilmente come famiglia presbiterale. 5. Le aree pastorali previste per quest'anno Una a Pescara Porta Nuova, l'area che comprende la Cattedrale di San Cetteo e la Parrocchia di San Luigi, coordinata da Don Francesco Santuccione. Con lui Don Michele Mosca, Don Robert Manuel Aldana Gilles, Don Lyubomir Sitko e il Diacono Sergio Diella. Una a Pescara Centro, l'area che comprende la Chiesa di San Pietro e il Santuario della Divina Misericordia. Già a Parrocchia del Sacro Cuore, coordinata da Don Vincenzo Amadio. Con lui Don Paolo Lembo, Don Remo Chioditti, Don Rinaldo Lavezzo e il Diacono Sergio Balducci. Una a Montesilvano, l'area che comprende Villa Carmine e San Raffaele, coordinata da Don Valentino Iezzi. Con lui Don Venanzio dell'Aquila, Don Graziano della Volpe e il Diacono Maurizio Sonaglia. Una nella zona di Pescara Sud, l'area delle parrocchie di Fontanelle, San Pietro, Santa Lucia, San Donato, coordinata da Don Enrico D'Antonio. Con lui Don Piero Martella e Don Marco di Persio. Una fuori città, l'area che comprende Villanova, Bucceri, Cerratina e Castellana, coordinata da Don Cristian di Biase con l'aiuto di Don Luca Anelli. Sarà in Abruzzo il santuario della Madonna del Silenzio, realizzando così un desiderio di Papa Francesco che ha promesso verrò all'inaugurazione. Sarà la prima volta che Francesco sarà nella nostra regione in modo ufficiale. L'iniziativa nasce dai vari incontri che il padre Cappuccino, fra Emiliano Antenucci, missionario della misericordia e custode dell'opera di Maria del Silenzio, ha avuto con il Papa. Il santuario della Vergine del Silenzio sarà il convento di Santa Maria del Paradiso dei frati minori di Tocco da Casauria. L'Abruzzo, dopo il Tibet e la Cappadocia, è la regione al mondo che ha più eremi, grazie al santo Papa Celestino V. Si può quindi definirla terra del silenzio. Lunedì in Abruzzo i centri per l'impiego inizieranno a convocare beneficiari del reddito di cittadinanza che sono in possesso dei requisiti per poter essere occupati. Si apre la fase 2 per i 14.265 destinatari della misura in Abruzzo e in Italia sono complessivamente 704.595, dei quali circa un terzo risulta occupabile. Per la complessità delle procedure e a causa della crisi di governo ci sono stati notevoli rallentamenti nell'acquisizione della documentazione e quindi anche in Abruzzo potrebbero esserci ritardi nelle chiamate da parte dei centri per l'impiego. Nel frattempo prendono servizio 54 navigator abruzzesi, le figure cioè previste nel decreto che ha istituito il reddito di cittadinanza e che dovranno aiutare i beneficiari a trovare un lavoro. Ci sono 15 navigator nella provincia di Chieti, 14 in quella di Pescara, 14 in quella dell'Aquila e 11 in provincia di Teramo e in media ognuno di loro dovrà confrontarsi con 264 fruitori della misura. I navigator contrattualizzati da Ampal Servizi dopo l'ultima settimana di formazione diventeranno operativi e saranno impegnati nell'assistenza tecnica prevista all'interno dei centri per l'impiego. La Luxottica ha completato l'acquisizione del polo produttivo abruzzese di Barberini, il più importante produttore al mondo di lenti da sole in vetro ottico. In una nota, Luxottica informa che investirà per fare di Barberini una brand mondiale sinonimo di lenti in vetro ottico di elevatissima qualità. Barberini continuerà a servire tutti i principali produttori del mondo del eyewear, cioè appunto dell'ottica, che vorranno differenziarsi aggiungendo l'unicità del vetro per le loro lenti. Sarai la piazzale di Palazzo di Città Largo Chiola, ospitare oggi a partire dalle 19 la cerimonia 31 agosto 1943-31 agosto 2019 Pescara non dimentica. in occasione del 76esimo anniversario dei primi bombardamenti su Pescara avvenuti in pieno giorno alle 13.20, sorprendendo i pescaresi al mare o a casa per il pranzo e uccidendo circa 2.000 persone. Per ripercorrere quella tragedia abbiamo scelto una cerimonia sobria e istituzionale organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale a nome di tutti i consiglieri, perché il 31 agosto deve essere un giorno di pacificazione che possa rappresentare tutta la città. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, ricordando con il sindaco Masci il programma dell'evento organizzato a Pescara. Un evento, ha detto, istituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio per ricordare quel dramma con due momenti. Il primo mezzogiorno, attraverso i canali di Radiomare, su una nostra spiaggia, quando andrà in onda un messaggio per ricordare l'evento e invitare tutti a osservare un minuto di silenzio. Alle 19 il programma serale. Ci ritroveremo in Largo Chiola, ossia alle mura di Palazzo di Città, dove, con i labari e i gonfaloni di tutte le associazioni combattentistiche d'armi, ci sarà la deposizione della corona d'alloro al lapide installata sulle mura comunali del 2004, quando, dopo un breve saluto del Presidente del Consiglio e del sindaco Masci, interverrà lo storico e giornalista Marco Patricelli per ricordare cosa è accaduto a Pescara il 31 agosto di 76 anni fa. A chiudere, ha aggiunto il Presidente Antonelli, offriremo ai presenti un concerto per violoncello del maestro Maria Margherita Paci del Conservatorio Statale di Musica a Braga di Teramo. Partiranno subito con procedura d'urgenza e lavori di riparazione dei tetti pesantemente danneggiati dalla grandine del 10 luglio scorso delle palazzine di Via Caduti per servizio. Le opere sono state affidate a una ditta che ha partecipato alla gara con un ribasso del 12% sulla base di asta di 112.000 euro. Lo ha detto l'assessore all'ambiente e alla politica della casa del Comune di Pescara, Isabella Del Trecco. Massima attenzione per i disabili che parteciperanno allo spettacolo del Jova Beach Party il 7 settembre a Montesilvano. Ringraziamo l'assessore comunale di Pescara, Pignoli, afferma la consigliera delegata alla disabilità del Comune di Montesilvano, Paola Ballarini, per la Solerzia con la quale ha voluto indicarci le modalità di accesso per i disabili nell'area del concerto di Giovanotti. Pignoli sa bene che la nostra città ha sotto questo aspetto una sensibilità storica grazie alle attenzioni che rivolgiamo quotidianamente all'accessibilità, in particolare alla lotta condotta in questi anni contro le barriere architettoniche. Ci siamo già mossi da tempo con gli organizzatori affinché le persone diversamente abili potessero accedere allo spettacolo senza ostacoli e grazie alla sensibilità riscontrata abbiamo messo a segno strategie su viabilità e parcheggi che ne favoriscano l'ingresso all'area. Oggi è sabato 31 agosto e nella diocesi di Avezzano si celebra la memoria di San Cesidio, sacerdote e martire, solennità in Trasacco. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Gino Cilli. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà mattino, nuvoloso in tarda mattinata nelle ore centrali, poco nuvoloso nel primo pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio, è coperto in serata con temperature da 25 a 29 gradi e venti deboli. E nelle zone interne cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, nuvoloso in tarda mattinata nelle ore centrali e molto nuvoloso nel resto della giornata con temperature da 26 a 30 gradi e venti deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo coperto fino alle ore centrali, molto nuvoloso nel resto e coperto nel resto della giornata con temperature da 25 a 29 gradi e venti deboli. E nelle zone interne cielo coperto con temperature da 25 a 28 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso sia oggi che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti. Grazie per la visione!